30 vigili urbani stagionali in servizio a partire dal prossimo mese di luglio e fino a settembre e poi nuove assunzioni. È quanto intende fare il sindaco di Vescara Carlo Masci per garantire il numero adeguato di agenti di polizia municipale per fronteggiare la lotta contro lo spaccio di droga e la microcriminalità in città. Zone come quella della stazione ferroviaria, dove si sono registrati anche fatti di cronaca violenti, aggiunto ancora il primo cittadino, saranno presidiate dal nuovo gruppo di pronto intervento. Il sindaco ha convocato nei giorni scorsi gli ufficiali della polizia municipale per organizzare il nuovo gruppo di lavoro. Sì, io ho riscontrato sul territorio durante la campagna elettorale che c'è questa esigenza di sicurezza in una città come Pescara e quindi è necessario implementare alcune attività della polizia municipale come quelle relative al controllo anche in borghese del territorio in modo tale da prevenire atti criminosi e da controllare tutto il territorio pescarese. È stata anche una richiesta del tavolo della sicurezza che si è tenuto nei giorni scorsi. C'è un coordinamento molto intenso fra la polizia municipale, i carabinieri, la polizia di stato, la finanza. Questa è una città controllata ma dobbiamo aumentare la percezione da parte dei cittadini di sicurezza perché una città più sicura, una città più tenuta sotto controllo, sicuramente una città più attrattiva e a noi interessa molto che Pescara possa attrarre soprattutto in questo periodo di turisti. Ci può essere un problema per quanto riguarda la carenza di personale? Il personale noi lo rafforzeremo adesso con i vigili stagionali perché entro l'inizio di luglio avremo altri 30 vigili stagionali, le procedure sono già state avviate e quindi c'è sempre la necessità di avere l'autorizzazione del Ministero e noi già questa autorizzazione l'abbiamo chiesta. Poi ovviamente ci preoccuperemo di rafforzare il corpo della polizia municipale anche con assunzioni a tempo indeterminato, con concorsi perché è necessario rafforzare il corpo che poi tiene la sicurezza della nostra città.